Il marchio della bestia o il sigillo di Satana spiegati da Don Dolindo Ruotolo. Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi di Don Dolindo Ruotolo, in particolare del commento che gli ha fatto dell'Apocalisse di San Giovanni Evangelista. Don Dolindo Ruotolo è stato un presbitero terziario francescano vissuto tra il 1882 e il 1970, noto per le sue grandissime capacità di scrutare i cuori, di prevedere il futuro e noto anche per aver operato numerosi miracoli. Attualmente gli è servo di Dio e si attendono nuovi miracoli, anzi la verifica dei tanti miracoli che sono avvenuti per sua intercessione per procedere alla beatificazione e poi speriamo in un prossimo futuro non molto lontano alla santificazione. Per quanto riguarda il marchio della bestia, il sigillo cioè che Satana dovrebbe imprimere ai suoi adepti durante gli ultimi tempi, Don Dolindo Ruotolo fa riferimento, lui parla degli strumenti di cui secondo lui Satana si avvarrà per imprimere questo sigillo. Diciamo ecco lui parla in maniera specifica del cinema perché al tempo in cui egli è vissuto quando ha scritto queste pagine non ancora esisteva la televisione quando lui ha commentato appunto l'Apocalisse, è chiaro che oggi il suo discorso varrebbe non solo per il cinema e per la televisione ma in generale per tutti i media. Non perché ci sia qualcosa di sbagliato nell'utilizzare i media che anzi hanno una grandissima importanza per la diffusione di notizie, di informazioni molto 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 importanti. Quello che Don Dolindo condanna come tutti i cristiani insomma che si definiscono tali è un certo uso distorto che si fa oggi dei media con il quale si esaltano e si promuovono stili di vita immorali ed anticristiani. Ecco cosa scrive Don Dolindo Ruotolo tra i mezzi di seduzione per far ritornare sulla terra il regno del male il sacro testo ne indica uno con queste parole e sedusse gli abitanti della terra con prodigi che le fu dato di operare innanzi alla bestia dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine della bestia che fu piagata di spada e riprese vita e le fu dato di dare spirito all'immagine della bestia sicché l'immagine della bestia parlasse e di fare che quanti non avessero adorato l'immagine della bestia fossero uccisi. I prodigi della scienza apostata sono quelli che inducono gli uomini a non credere più al soprannaturale scrive Don Dolindo. Tante scoperte moderne che avrebbero potuto e dovuto avvicinare a Dio l'anima umana sono servite quasi totalitariamente a far risorgere il regno del male e a far rinascere l'idolatria fino al culto e all'adorazione della macchina come è avvenuto in Russia ma quella scoperta che più ha influito sulla seduzione delle anime è stato il cinematografo. Immagine vera della bestia che fu piagata di spada e riprese la vita sintesi cioè di ogni male e corruzione espressa per immagini nella proiezione delle pellicole le quali sembrano avere spirito perché si muovono e parlano come se fossero dei viventi. Nei cinema viene proiettato sotto gli aspetti più seducenti il male la corruzione e l'errore. Le generazioni dolorosissimamente vi vengono educate con vive impressioni dalla piccola età e praticamente la bestia il male il peccato l'apostasia da Dio l'idolatria della carne della violenza dell'orgoglio e di tutti i vizi capitali vera bestia con sette teste dieci corna perché sintesi dei sette peccati mortali e dell'opposizione della vita ai dieci comandamenti di Dio sorge trionfante contro il bene. Al tempo dell'anticristo questo strumento di seduzione raggiungerà eccessi spaventosi di modo che sarà contaminata persino la libera capacità di pensare di agire secondo buonsenso e secondo ragione degli uomini che arriveranno addirittura a condannare alla pena di morte coloro che si rifiuteranno di assistere alle proiezioni infami sacrileghe e sommamente immorali. Non deve stupire questo già che abbiamo già visto in Russia le esose imposizioni fatte ai poveri prigionieri dalla barbarie bolshevica per costringerli ad assistere alle turpe proiezioni del cinema immorale e satanico. Nel tempo della spaventosa apostasia provocata dall'anticristo in nome della scienza sarà dato completamente il bando a tutto ciò che è cristiano di modo che sarà fatto a tutti l'obbligo di portare un segno di apostasia o sulla fronte o nella mano destra o di portarvi impresso il nome dell'anticristo o il numero che lo indica. Evidentemente un cattolico non potrà portare quel marchio senza dichiararsi già apostata e allora una legge infame dichiarerà privi del diritto di comprare e di vendere ossia del diritto della vita stessa quelli che non porteranno il segno dell'anticristo. Sarà questo il colmo dell'apostasia e San Giovanni con un enigma determina quale sarà il nome dell'anticristo dicendo qui sta la sapienza chi ha l'intelligenza calcoli il nome della bestia poiché è numero di uomo e il suo numero è 666. Gli antichi esprimevano i numeri con le lettere dell'alfabeto. Ora la cifra ottenuta sommando i valori numerici delle lettere che formano il nome dell'anticristo darà il valore di 666. Non si tratta di un nome astratto come avverte esplicitamente il sacro testo ma di un nome di uomo e quindi del nome dell'anticristo. Sono quasi innumerevoli le combinazioni di lettere dell'alfabeto greco che possono dare il valore 666 e quindi è impossibile a noi il poter congetturare il nome che avrà l'anticristo. Alcuni interpretano il numero come un'espressione mistica di una triplice impietà. Sette nella scrittura essi dicono è il numero che indica la perfezione. Otto è il numero della beatitudine o della felicità. Sei è il numero della deficienza e del del delitto. Le lettere che formano il nome di Gesù equivalgono a 888. Quelle dell'anticristo equivalgono a 666. Il numero della deficienza e del peccato. Altri identificano il nome del quale parla San Giovanni con Nerone, Cesare, altri con Napoleone. Non si può dire nulla di certo e solo quando sarà venuto l'anticristo si capirà dal valore numerico del suo nome che è proprio lui lo scellerato. Lo si capirà anche dalle sue gesta ma il nome ne darà la conferma e metterà maggiormente in guarda. i cristiani contro di lui.